Siamo con Marco Vedovetto del comitato Vivi Mar di Mago che ha sollevato nei mesi scorsi problematiche pesanti e la viabilità di Mar di Mago, tanto da chiedere un intervento della provincia. Quali sono le principali problematiche? Le principali problematiche sono il traffico sia di autoveicoli che di mezzi pesanti con tutto quello che comporta, quindi abbiamo inquinamento acustico, inquinamento ambientale, dissesso stradale con le vibrazioni, abbiamo case con danneggiamenti visibili, un problema di sicurezza e di salute. E' una cosa che non dipende dal nostro comune ma dalle attività che ci sono nei punti vicini alla nostra frazione, per cui noi stiamo patendo una serie di situazioni che sono state create per una scarsa progettazione. Non siamo contro le attività vicine ai nostri paesi, tipo San Martino di Venezia, chiediamo unicamente come misura cautelativa adesso di ridurre il traffico, cercando di evitare, negare il traffico di attraversamento, ovvero sia tutti quei mezzi che utilizzano Viale dei Mille per andare a raggiungere destinazioni che non sono vicine al comune, ma che lo fanno solamente per risparmiare strada, far meno percorrenza, quello che c'è. Quindi cosa servirebbe per ridurre il traffico in questo tratto? Allora, senz'altro come il comune di Rovigo aveva già fatto una delibera per eliminare o vietare il traffico ai mezzi pesanti non autorizzati. Questo ha avuto un effetto per circa quattro mesi, finché un gruppo di aziende vicine ha pensato bene di fare ricorso al TAR. Il ricorso al TAR si discuterà a novembre, l'8 novembre, ma il TAR ha accolto la richiesta dei ricorrenti che in via cautelativa chiedevano la sospensione della delibera. Noi abbiamo visto la differenza tra quando era in vigore il divieto a quando hanno tolto il divieto. Il comune di Rovigo oltretutto ha messo in posto il limite di 30 all'ora che non viene assolutamente rispettato. Per cui chiediamo intanto che venga ripristinato il divieto che non danneggia nessuno, perché noi abbiamo detto che tutti quelli che hanno attività nei paraggi possono andare. Tutti gli altri, traffico di transito, venga vietato. Non chiediamo, siamo ben coscienti che non possiamo andare a danneggiare interessi altrui, ma non ci sono solo gli interessi economici. Non vogliamo barattare la salute con l'economia, con la ricchezza e con i soldi. Cosa risponde la provincia di Rovigo alle richieste della comunità di Mar di Mago per la viabilità? Beh, intanto oggi abbiamo raccolto l'istanza della comunità e del comitato di Mar di Mago e abbiamo indetto questa riunione con il comune di Rovigo e appunto la provincia. È emersa una discussione molto ampia e la soluzione in attesa della realizzazione della progettualità e della realizzazione delle opere della bretella, che dovrebbe risolvere in maniera definitiva questo annoso problema, abbiamo stabilito l'indizione di una conferenza di servizi su istanza del comune di Rovigo. La conferenza di servizi è l'unico strumento che può far sì che si arrivi ad un accordo e questo accordo poi non venga cassato dal TAR, come è successo per il precedente accordo raggiunto con il comune di Rovigo e il comitato. Alcuni cittadini possessori di automezzi hanno fatto ricorso al provvedimento del comune di Rovigo e il TAR ha dato ragione a queste persone. Una delle motivazioni per cui il TAR ha dato ragione è proprio che non è stata indetta la conferenza di servizi. Quindi la provincia si è dimostrata disponibile ad indire la conferenza di servizi sperando che anche i comuni della Padovana possano aderire a quello che sarà la progettualità proposta dal comune di Rovigo per dare finalmente una risposta ai cittadini di Mar di Mago. Quindi una soluzione definitiva sarà decisa proprio in questo ambito tutti insieme? Allora una definizione provvisoria potrebbe essere assunta dalla conferenza dei servizi però rispetto al problema strutturale di Mar di Mago deve essere risolto dal punto di vista della progettualità e quindi dalla modifica della viabilità locale, della curva della chiesa e della velocità dal comune di Rovigo. In questo la provincia non ha nessuna competenza. Grazie. Prego. Grazie.